E lui usa volentieri il termine blueprint che vuol dire impronta, matrice, perché comunque è un'impronta che si ritrova ovunque. Abbiamo già parlato dell'impronta globale, della politica globale. E poi c'è l'impronta, c'è la matrice della religione globale. Non fa nessuna differenza che sia cristiana, musulmana, hinduista, ebrea. Ci sono le persone che si riconoscono in una certa religione. E poi c'è una gerarchia che si frappone tra la gente e un presunto creatore divinità. E la gerarchia decide, decide, detta e quale è la religione. E qual è la matrice globale di messaggio che ogni forma di religione vuole trasmettere? Tu sei la giù piccola o piccola e attraverso di me che sono un po' più grande, ma non tanto, dovrai fare quello che dice quello grande e grande lassù. E allora io chiedo, come faccio a sapere cosa vuole che faccia quel signore lassù? Allora stai tranquillo e te lo dicono quei signori tutti vestiti di nero. E ti credo che poi finiamo per vivere in un mondo disorganizzato, sempre più stressante, allucinato, inconsciente. Il primo passo fondamentale è quello di disconnettere completamente il corpo incarnato dal livello superiore di coscienza. E poi programmare questi corpi incarnati e istruirli secondo tutta una serie di comandi che sono quelli che più convengono ai pochi che comandano. Prima di tutto si vuole che tutti noi abbiamo delle convinzioni rigide. Non è importante tanto che sia una convinzione rigida o una fede rigida in quel partito politico o in quest'altro. La fede in quella religione o in quell'altra religione o per quanto basta anche nell'ateismo che è la mancanza di religione. Perché in qualsiasi momento noi nutriamo una fede rigida in qualche cosa, da un punto di vista vibrazionale costruiamo una prigione intorno alla nostra mente. Al centro di questa enorme rete globale sta seduto il ragno. E il ragno sa benissimo come funziona la realtà e come noi procediamo per interagire. E il ragno controlla anche tutte le fondamenta di quella che noi abbiamo il coraggio di chiamare scienza. Per essere sicuri che noi non scopriamo mai perché ci dicono le cose che ci dicono. E negli esperimenti della ricerca scientifica si è visto con chiarezza che ogni qualvolta si nutre una convinzione rigida i neuroni del cervello si attivano con una certa conformazione. E quindi questa diventa una manifestazione elettrica di una profezia che si autodetermina. Quello che credi vedi e quello che vedi sperimenti. Quando ti senti che sei piccolo piccolo e totalmente impotente Vivi una vita da persona piccola piccola che non ha nessun potere. Non perché non hai potere ma perché credi di non averne. E l'idea è proprio quella di continuare a farci sentire impotenti in maniera che noi non decidiamo mai di usare il potere che invece abbiamo. E questa è la ragione per cui ciò che noi chiamiamo religione o scienza non è tanto diverso. Fanno quello che fanno, stanno lì semplicemente per convincerci che tutto quello che c'è non è altro che una maschera sulle loro facce. E in questo modo si impongono convinzioni rigide su persone che hanno diversa mentalità, diversi modi, diverse strutture, diverse origini. In questo modo hanno messo in schiavitù le menti di miliardi di persone. E questa è la ragione per cui noi dobbiamo uscire da questo modo di percepire la realtà che è basata soltanto sui cinque sensi. E noi dobbiamo renderci conto che siamo coscienza che sta facendo un'esperienza ma non siamo quell'esperienza. E questa è l'unica via d'uscita da questa prigione della mente. E questo è qualcosa che sta succedendo in tutto il mondo. Questo è il più grande risveglio che si sia mai visto in tutta la storia dell'umanità. Il risveglio che noi tutti siamo sperimentati. E con il senno di poi non potremmo non renderci conto che questa sorta di esplosione di controllo orwelliano quasi che ci sta salendo tutti non ha altro che come scopo principale quello di difendere questo sistema che ci vuole controllare dal più grande risveglio delle mente delle coscienze che si sia mai visto nella storia dell'umanità. Siamo per entrare in un periodo di enormi accadimenti enormemente straordinari. E siamo anche oggi testimoni di ciò basta guardarsi intorno e vedere che cosa sta accadendo nel mondo. è la forza irresistibile che sta richiamando tutta l'umanità a risvegliarsi alla sua vera identità. per arrivare faccia a faccia con quello che fino ad oggi abbiamo considerato come un sistema di controllo che è imbattibile ma non lo è. si cerca di spingerci dentro uno stato mentale di paura e di sottomissione che non fa altro che chiuderci e renderci sempre più suffocati. E lo stiamo vedendo accadere nel mondo oggi sempre più guerre un collasso dell'economia globale al punto che le persone stanno cominciando a domandarsi se potranno sopravvivere da un punto di vista economico disastri come quello del Giappone e non crediamo che siano disastri che non possono essere provocati con la tecnologia lo possono e come? e la tecnologia come quella del HAARP che stanno sperimentando in Alaska che diffonde in tutto il mondo onde e radio di potenza straordinaria e che le diffondono in atmosfera per farle poi rimbalzare sulla Terra e questo tipo di tecnologia è in grado di provocare terremoti e variazioni climatiche estreme e negli anni 90 questo è stato riportato anche su dei documenti ufficiali dell'Unione Europea quindi questo è un momento di incredibile trasformazione l'umanità anche se non tutta però il numero delle persone coinvolte da questo risveglio sta crescendo in maniera esponenziale e l'umanità si sta risvegliando e sta risvegliando in sé la capacità di riconoscere in sé e intorno a sé situazioni ed eventi che in passato non riusciva a vedere il sistema di controllo sempre di più viene messo all'angolo e quindi a questo punto se le cose vanno avanti così tutto è possibile perché il potere vero fino ad oggi non ha ricevuto delle sfide che fossero davvero convincenti